ciao ragazzi benvenuti non vedo l'ora di mostrarvi casa nostra andiamo a scoprire upside ad accogliervi c'è la nostra super receptionist sarah e poi la cosa che ci piace di più del nostro ingresso è che appena entrati in upside potete vedere tutti i nostri spazi d'allenamento dall'arena dove vi faremo faticare allo spazio che chiamiamo ala dove facciamo stretching e allenamenti di fitness e poi i nostri divanetti il punto di ritrovo dove i nostri atleti possono scambiare due parole prima di andare a faticare o dopo l'allenamento per riprendere fiato il vostro gli spogliatoi vi facciamo fare due passi prima di arrivare a dove vi cambierete ecco i nostri spogliatoi belli luminosi con tante panche armadietti dove potete cambiare mettere le vostre cose e sei docce giganti ovviamente il gusto è quello di mia moglie andiamo alle zone d'allenamento questa è la vista che hanno i nostri atleti prima di entrare nella zona d'allenamento in cui possono cominciare ad avere paura per quello che gli aspetta eccoci nell'arena il vero e proprio cuore di upside dove facciamo tutti i corsi di crossfit quasi 300 metri quadri di pavimento gommato in cui farvi sudare in mezzo torreggia il nostro rig personalizzato con il viola che ci distingue e il nostro logo che ci ha fatto kings box e sulla parete tutti gli attrezzi con cui farvi faticare per il rig abbiamo scelto il modello mighty più grosso e importante perché ci piaceva tantissimo la struttura e metteva in risalto il nostro colore viola tra quello sta benissimo di fronte alle nostre brittrate che sono qualcosa che solitamente in un box di crossfit non si trova eccoci nella nostra seconda sala d'allenamento qui facciamo altri corsi di fitness dall'allenamento in sospensione al pilates lo yoga circuit training tutti i corsi alternativi o complementari al crossfit un'altra cosa che ci tengo a farvi vedere è il nostro parco macchine posizionato qua sul palco le nostre attrezzature includono 3 ghd 6 bike erg 6 vogatori e 6 assol bike oltre 3 ski erg di roba per farvi faticare ne abbiamo qui abbiamo un'altra area di allenamento che usiamo solitamente per lo stretching finale dopo le classi di crossfit o per allenamenti di circuit training invece da quella porta si accede alla nostra area di allenamento esterna con un altro rig sempre della king's box è fatto un sacco piacere potervi presentare upside e arrivederci a presto